Esteva Campos, Presidente dell'Omnium Cultural dell'Alghè, è stata la PLEC all'Alghè della di Folk. Come si analizza? Beh, è una manifestazione che si analizza benissimo all'Alghè. Abbiamo tante persone, diverse associazioni folcloriche di Cataluña, abbiamo tante giovani, insomma, è stata una gran festa del popolo. E' stata però, come tutti sapete, che è stata anche un'altra cosa, che era più grande. Sì, diciamo che è stato un fatto straordinario che nessuno lo guardava. Nel ultimo 60 anni l'Alghè è stata due manifestazioni culturali importantissime. La prima nel 1960, ma ritrovamente. E ricordiamo che anche il periodo della Cataluña e tutta la Spagna era sotto la dittatura franchista. Però nessuno ha parlato delle questioni politiche. perché anche l'Alghè non ha dimostrato un interesse politico. E' stata solo una festa esclusivamente culturale, ma anche importante. A differenza di quelle manifestazioni, a qualsiasi volta, in occasione di una grande manifestazione culturale con la di Folk, a ma che sfetti dell'ampassionamento del Puigdemont, l'Alghè, ma non solo l'Alghè, ma tutta la Sardegna, è stata una festa straordinaria. che è la solidarietà e le manifestazioni non solo delle persone culturali, ma delle tante associazioni e dei movimenti indipendentisti a Santos, che hanno dimostrato solidarietà, che sono stati accostati dalla causa catalana e così come la situazione, se non solo l'Alghè della Sardegna, si sanno. Perciò, anche se questi momenti, ritrovamenti, i adi Folk, a plecchi del Denguande del 2021, si possono raccordare storicamente all'Alghè, come affezze straordinarie, che hanno aggiurato non solo la nostra cultura, ma anche una coscienza sociale e politica del palco nostro. Ed è possibile che l'Alghè che vengano sia potuto fare qualcosa per raccordare proprio a questo momento? Sì, anche a voi e al passato abbiamo raccordato giustamente il loro ritrovamento del 1950, a questa volta si può raccordare a questa data della di Folk, a questa idea importantissima, non solo per la plecchi, ma anche per questo gran movimento di solidarietà che ha dimostrato l'Alghè e la Sardegna a sconfronse delle scatalanze.